Potersi addormentare e poi risvegliare con una vista panoramica sulla città come quella offerta dalle Torricelle è il biglietto dell'agriturismo e cantina dei fratelli Camilla e Giovanni Ederle. Tra olivi e vigne sorgono russici ristrutturati dove si trovano le stanze arredate con i materiali naturali della campagna veronese, in primis le tavole di abete recuperate da vecchi solai. Un filo conduttore all'insegna della ruralità e della sostenibilità, valori che soprattutto l'eno turista straniero apprezza. L'ospite può vivere a contatto con l'attività dell'azienda agricola in modo che vendemmia e pigiatura, come le altre fasi della produzione, diventino un arricchimento del soggiorno. Sono una decina le degustazioni con percorsi e location diversi tra vigneti, cantine e fattorie. Inizialmente un accessorio dell'ospitalità, ora diventati parte integrante e motivo di scelta dell'eno turista.